è il 5 agosto del 2024 oggi ho rischiato un incidente mortale io venivo da serra san bruno direzione simbario è un signore con un furgone che io voglio vorrei anche denunciare perché la targa non sono uscita prende un mercedes vito ha sorpassato un tir sulla linea continua occupando la carreggiata la corsia opposta allora non veniamo a dire che la 106 è pericolosa la 106 non è pericolosa non è una strada pericolosa la 106 sono le persone che guidano male sono le persone che non rispettano le regole sulla 106 quando ci sono i ponti e c'è il semaforo verde la gente non ti dà la precedenza cazzo allora la velocità è sempre il vero problema degli incidenti stradali dobbiamo stare attenti soprattutto agli altri dove la buonanima di mete mannella ci ha lasciato le penne scusate è morto io oggi ho rischiato di avere un incidente stradale per un cazzone che ha invaso la corsia opposta e non è abbagliandogli non è che si spostava mi sono dovuto io accostare tutto a destra quasi ortando il guardarelle per evitare di investirlo quindi anche la trasversale può essere una strada pericolosa guardate in autostrada spesso ci capita di vedere tir camion che con rimorchio devono andare a 70 80 km fanno sorpassi a 120 130 la velocità signori miei non mi fa più belli più forti la velocità fa parte degli stupidi degli ignoranti purtroppo anche le case automobilistiche dovrebbero in qualche modo incentivare gli automobilisti ad andare meno magari facendo macchine che raggiungano che ne so i 120 130 km orari oggi ci troviamo con una panda tipo quella di gij che magari arriva a 170 180 km orari macchine molto spinte e quindi è come avere una ferrari che ti va a 90 km orari che cazzo me la compro a fare la ferrari però sta tutto dentro di noi in germania ci sono zone dove non hanno limiti eppure sanno che se vanno troppo veloce si giocano la patente per un anno allora io mi rivolgo alle istituzioni non ai comuni perché la trasversale non è dei comuni e competenza anas o magari anche della provincia mi rivolgo alle istituzioni alla calabria a tutti coloro che si occupano del mantenimento di questa trasversale mettete cazzo i tutor cioè se uno parte da simbarino e deve impiegare 30 minuti a 70 chilometri per arrivare a soverato arriva sovrati in 15 deve scattare necessariamente il ritiro di patente il ritiro di patente multa guardate macchine che vanno velocissime questa è una strada extraurbana basta guardare i cartelli azzurri qui si va a 90 km orari ma invece 90 km orari sono solo un'opzione sono in questo momento le sette è prestissimo già fa caldo però io noto tanta negligenza tanta negligenza anche persone che vanno a piedi a farsi la camminata o la corsa sulla 106 ma stiamo scherzando cioè uno vuoi andare a camminare vai a camminare dove puoi camminare nei boschi nelle strade sterrate nelle stradine di campagna che fanno parte dei comuni non sulla trasversale o sulla 106 perché poi dobbiamo guardarci anche dai pedoni dicono il pedone ha sempre ragione ma fino a un certo punto se lo sto camminando in galleria e mi vedo uno che mi attraversa la galleria dove giustamente in galleria non ci sono le strisce pedonali cioè ragazzi qua è da rivedere tutto da quando iniziamo il percorso per prendere la patente perché io non voglio parlare tra tanto ma ci sono anche scuole guide non qua da noi in giro per l'italia che le patenti te le regalano cioè io vedo anche a sera san bruno se c'è una rotonda io signori miei ho la precedenza quando sono nella rotonda altrimenti ci mette un semaforo e diventa incrocio anche a simbario lo spingolo di simbario c'è la rotonda io mi devo guardare da quelli che vengono da chiaravalle perché non si fermano alla rotonda e ti investono poi devi andare via le gare e assicurazione e così via dicendo vogliamo cambiare vogliamo migliorarci bene dobbiamo partire proprio da queste piccole cose mi raccomando guidate non piano guidate bene e se dovete fare un suo passo fatelo ma non dove c'è una linea continua perché la linea continua serve a dividere una carreggiata in due corsie di sensi unici alterni se no non avrebbe senso